All'aeroporto di Oriol Serio sono stati assegnati lavori di ampliamento dall'aerostazione per un importo di 20,4 milioni di euro. Le opere sono state appaltate all'Associazione Temporanea di Imprese formata dalla società capofila Codelfa S.P.A. di Tortona e dalle consociate DS Electra S.P.A. di Ghedi, Gianni Benvenuti S.P.A. di Como e Facchetti Costruzioni S.P.A. di Pontoglio. L'intervento prevede la realizzazione di 3.240 metri quadri di nuovi spazi e la riqualificazione di oltre 2.000 metri quadri di superficie esistente. Le opere sono finalizzate all'allargamento delle pianoterra, dell'area arrivi e della sala riconsegna bagagli e alla creazione di nuove postazioni per il controllo documentale dei passeggeri in arrivo con voli extra Schengen. Contestualmente sarà reso disponibile un nuovo gate d'imbarco al primo piano delle terminal partenze voli Schengen. L'intervento rientra nel più ampio e articolato programma di adeguamento delle infrastrutture di servizio inserito nel piano di sviluppo aeroportuale. I lavori saranno avviati nel mese di settembre 2013 e sono destinati a concludersi entro la primavera 2015 in concomitanza con Expo. Il programma degli interventi prevede che già nell'estate del 2014 venga consegnata e resa operativa la nuova area riconsegna bagagli.